Siamo con Marta Schifone, deputata Fratelli d'Italia, oggi ha ospitato qui a Montecitorio la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per festeggiare la giornata nazionale del chimico e del fisico con particolare attenzione al tema del salute e sicurezza sul lavoro. Sì, intanto mi lascio dire che sono particolarmente orgogliosa di celebrare questa giornata insieme alla Federazione degli Ordini, una giornata dedicata ad una donna della scienza, ad una donna della conoscenza, ad una donna che ha abbattuto e ha combattuto anche degli stereotipi delle donne nella scienza. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo da poco approvato una proposta di legge della istituzione della settimana nazionale delle STEM che dà un particolare occhio alle bambine e alle ragazze per consentire loro di sapere, di conoscere, andando a incentivare la comunicazione, la devoluzione e la sensibilizzazione della grande carica di opportunità che queste materie danno anche in termini soprattutto di ricaduto occupazionale ma anche di soddisfazione professionale. Sono le materie del futuro, la chimica, la fisica fanno parte delle materie STEM, siamo nella quarta rivoluzione industriale ormai e ci apprestiamo ad avere a che fare con tutta una serie di settori innovativi, il mondo e il mercato del lavoro cambieranno e queste materie saranno sempre maggiormente al centro. Per cui c'è una grande attenzione da parte nostra anche rivolta al tema della salute e della sicurezza sui luoghi del lavoro, lo diciamo da sempre, abbiamo assistito a degli eventi pratici con delle estreme conseguenze nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, non si può morire di lavoro e non si può morire sui luoghi di lavoro ma non si può morire anche dopo il lavoro. Ci sono una serie di patologie, di malattie che vengono chiamate della professione che vanno prevenute, possono essere prevenute con attività per esempio come quella che è quella che fanno i chimici e fisici con la loro competenza di valutazione anche dei rischi, dell'impatto per esempio penso agli agenti chimici, agli agenti fisici e tutte quante le attività per esempio di prevenzione dell'incendio, delle combustioni e anche della valutazione della qualità dell'ambiente in cui si lavora e in cui si ride. Per cui tutte competenze che sono importantissime vanno valorizzate, noi di Fratea Italia lo sappiamo molto bene, abbiamo approvato con grande soddisfazione un emendamento nel precedente Pubblica Amministrazione 2 nel quale abbiamo aiutato tanti giovani chimici a poter accedere a dei concorsi pubblici ai quali prima non era possibile farlo, era una struttura, l'abbiamo corretta, abbiamo presentato grazie alla prima firma del Presidente Rizzetto una proposta di legge che permetterà l'introduzione nelle scuole delle materie che appunto parlano di sicurezza e di salute di luoghi di lavoro. Per noi è un tema centrale e anche in sostegno ma anche grazie al contributo di queste professioni che ripeto sono e saranno le professioni del futuro noi siamo a disposizione dell'Italia e degli italiani sempre raccontando che la prevenzione è la migliore cura.